Un'area dedicata ai più piccoli che potranno aspettare i genitori fra pupazzi e giocattoli. La CISL si rinnova pensando ai suoi utenti, anche quelli con bambini. Nella sede centrale di via Brambilla è nato uno spazio bimbi per andare incontro alle famiglie che si rivolgono al sindacato. Sempre più spesso, infatti, le mamme che accedono ai servizi si presentano accompagnate dai figli. Un piccolo spazio famiglie, c'è anche tutto quello che può servire per accogliere una madre con suo figlio nei nostri spazi. Il bambino può giocare e la madre può essere certa che qua nei nostri locali c'è la massima sicurezza. Abbiamo messo anche un defibrillatore grazie alla collaborazione con Comocuore, proprio perché per noi, anzitutto, la persona va accolta mettendo nella massima sicurezza lei e i suoi cari. E così è stato predisposto un piccolo spazio di accoglienza con tavolini e giocattoli, tutti recuperati da amici e parenti, previsto anche un fasciatoio nei bagni. La riorganizzazione della CISL, però, non è finita qui. Negli ultimi tempi, infatti, anche la sede di Olgiateco Masco ha subito qualche modifica, mentre a Lomazzo è stato aperto un nuovo punto. Entro la fine dell'anno, inoltre, arriveranno anche le sedi di Fino Mornasco e Turate. Grazie a tutti.